L'officina, la gloriosa officina dei fabbri venuti dalle cave, dei carbonini, dei fuochisti, dei macchinisti. L'officina di tanto socialismo è stata chiusa. Si porta via più di un secolo di storie a volte straordinarie. L'officina è finita, non ci sarà più. Lei è una settimana speciale? Molto speciale, perché effettivamente, come ho saputo, sembra essere assi. Ho sempre sperato di migliorare, invece tutto un colpo, con i due decidi, basta e non è basta. Ho cominciato nel 1973 e nel 1974, mi dicevo già che vorrei essere assi. Allora, siamo tirati alla fine adesso, e tutti anche gli operari che erano qui, vengono qui sempre fiduciosi, perché è una buona industria, è un lavoro che resta nella zona, è gratuito fiducia. E così farà da questa costruzione? L'ultima versione che ha detto, come una scusa, è che vennerà a distruggere tutto e vennerà a costruire qualche cosa per il transit, però più se è un po' di meno. Già, per l'officina morta, da quei canzoni che ti piaceva, tu se la ricorda a me? A cantarmi la bandiera rosa. Tu la facciamo? Tu puoi provare a cantarmi un toquetin? Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. A cantarmi la bandiera rossa, la bandiera rossa, la trionferà. Il Politeama aveva una balconata che pareva una meringa alla panna, sostenuta da colonne. E l'hanno strappata via. L'hanno dipinto con un coloraccio. Negli anni Ottanta l'hanno fatto diventare una discoteca. La sua storia è finita, come quella di Biasca la Rossa. Tra poco verrà abbattuto, diventerà un piazzale. Così è la vita. La sua storia è finita, come la sua storia è finita, come la sua storia è finita. Chi sei? Chi 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 I sing for you should shine, Chinatown, Chinatown. Guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagomassia accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, 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 come come spiega la vita, spiega com'è.